Vado in Nepal ogni anno e tutte le volte che arrivo al controllo passaporti mi ha detto guarda il documento e voi mi chiede se sono buddista. Ma vestito così, secondo voi, che cosa volete che gli dica? Mi viene spesso da rispondere che sono un attore e sto andando a Kathmandu per girare un film. Che in fondo è anche vero, perché tutti facciamo la comparsa nel film della nostra vita. Ma partiamo dall'inizio. Una mattina di 40 anni fa, mentre mi facevo la barba davanti allo specchio con le guance insaponate, mi sono chiesto che cosa volessi fare da grande. Avevo un lavoro, facevo il manager, mi piaceva questo lavoro, avevo un ottimo stipendio, ero libero. Ma che cosa volevo di più della vita? La risposta mi è venuta immediatamente. Voglio fare qualcosa che tutti possono fare ma che nessuno fa. E non mi ci volle volto a comprendere che dovevo cambiare la mia vita. Avevo bisogno di una rinascita. Attenzione, non ero disperato, ero felice, ma forse c'era qualcosa di più a cui dovevo aspirare. E quando dico rinascita, non intendo dire che uno deve aspettare di essere morto, come dicono i buddhisti che poi rinascono. Ma che deve lasciare perdere senza indugi quelle vecchie abitudini che servono soltanto a sopravvivere ma non servono a crescere. Dunque, rinascita come partenza, come ripartenza, come creazione di nuove opportunità per una vita migliore. Ogni mattina, quando noi ci svegliamo, è una rinascita. È un'apertura di rinnovamento, non sappiamo cosa succede dopo. E anche ogni nuova esperienza è una rinascita. Abbiamo da affrontare situazioni nuove. E quante volte nei momenti difficili come quello che stiamo attraversando ci siamo ripromessi di cambiare, ma poi per pigrizia o per attaccamento alla routine quotidiana non ci abbiamo nemmeno provato. Noi esseri umani siamo dei veri campioni quando si tratta della pigrizia. Io invece in quel momento, proprio in quel preciso momento, ho accettato la sfida, decidendo di agire subito ma con ponderazione, come dice il tema del nostro incontro festinalente. In 24 ore ho abbandonato la mondanità, ho abbandonato il tennis, ho abbandonato gli amici con cui andavo alla sera a divertirmi, ma non ho certamente lasciato il lavoro che avrei poi abbandonato più tardi. Ed eccomi qui, 40 anni dopo, a parlarvi di cosa ho scoperto nel corso del mio cammino e a suggerirvi qualcosa che anche voi potete fare con buoni risultati. Quando affrontiamo un'iniziativa nuova, dobbiamo sapere che per farla sviluppare bisogna coltivarla proprio come avviene per una pianta. Avete presente il seme di una quercia? È piccolo così. Ma se ci sono le giuste condizioni, cresce e genera un albero enorme, pieno di ramificazioni e di energie. Ma le cause principali della nascita e della crescita di una pianta sono numerose. Il seme, il terreno, l'acqua, il calore, lo spazio, ai quali dobbiamo aggiungere il tempo necessario per la crescita e la trasformazione. Lo stesso succede anche per le nostre iniziative. Le iniziative ci vogliono l'intenzione, la pazienza, la perseveranza, il sentimento e gli altri ai quali dedicare le nostre attenzioni. Gli altri, proprio gli altri. L'obiettivo finale è la connessione con gli altri, che sono le persone con cui ci confrontiamo ogni giorno, ma che sono anche le cose che ci stanno intorno, gli animali, la natura, tutto quello che ci circonda. Io ho capito questo, ho riflettuto molto su come dovevo relazionarmi con gli altri. E la tesi della non violenza, sostenuta da Gandhi, che allora era molto di moda, mi ha affascinato. Non violenza non vuol dire soltanto che non dobbiamo usare parole e atti violenti, ma che in nessuna circostanza e in nessun luogo ci deve sfiorare il più piccolo pensiero di nuocere a noi e agli altri. Il più piccolo pensiero. Questo mi sembrò un buon punto di partenza, ma non ero abituato a pensare così. Non ero certo un santo e mi ci voleva un addestramento. Meglio se non troppo faticoso, naturalmente. E quindi mi sono arrovellato, doveva pur esserci un modo facile per iniziare. E alla fine ho concluso che questo modo poteva essere l'amorevole gentilezza. Anche l'amorevole gentilezza non fa parte della nostra cultura. Facciamo fatica a metterla in pratica e soprattutto può risultare difficile svilupparla nei confronti della gente. Io avevo le mie antipatie. Non ero pronto ad abbassare la guardia. Temevo di non essere compreso. E infatti può capitare che l'altro, antipatico o no, non sempre si è disposto al dialogo. Cioè noi gli rivolgiamo l'attenzione, ma lui non l'accetta. Quindi ho deciso di provare a esprimere la mia gentilezza verso le cose. Era molto più facile. Quando accarezziamo il nostro cane o il nostro gatto, sentiamo che si produce uno scambio totale di energie. E noi stiamo bene. Allora ho provato a farlo anche con le piante, con le foglie. Le foglie di una pianta si possono accarezzare. I petali di un fiore, senza decidere il fiore, soltanto sfiorandoli con la mano, ottenendoli per un attimo delicatamente fra le dita, sono uno scambio, sono un contatto con le cose. E quindi, mettendomi alla prova, in questo modo, ho scoperto che è un'esperienza sorprendente. Questo gesto, che è diventato ormai per me abitudinario, perché io lo faccio spessissimo, io lo chiamo accarezzare con il cuore. Perché nell'esatto momento in cui si attua, genera un effetto che possiamo paragonare alla primavera in natura. D'inverno tutto sembra bloccato, chiuso. Ma poi, al primo raggio di sole, spuntano germogli e fiori. E altrettanto avviene con la gentilezza, perché la gentilezza fa star bene noi e gli altri. E ricordiamoci che anche solo uno sguardo amorevole può essere immediato conforto e una potente benedizione. Basta semplicemente far capire con lo sguardo che noi ci stiamo. E voi, fino ad oggi, forse avete pensato che per esprimere amore il modo migliore sia la parola? Allora vi siete sbagliati, è una cosa cinematografica. La parola è certamente un'efficace medicina, ma può anche essere un'arma pericolosa. E a questo proposito vi propongo un piccolo esercizio. Quindi mettetevi, facciamo una breve meditazione, mettetevi nella vostra posizione, non accavallate le gambe. Rilassatevi e chiudete gli occhi. E visualizzate davanti a voi un bastoncino di incenso acceso. E osservate il fumo che sale in verticale formando una linea dritta. Adesso immaginate di soffiare su questo fumo e fate un soffio deciso. E vedete che il fumo si scompone e si sparge tutto intorno. Per tornare a formare una linea dritta ci vorrà del tempo. Adesso potete riaprire gli occhi. Come il fumo che abbiamo appena visualizzato, la nostra mente è un'energia sottilissima e fragile. Per sconvolgerla basta una parola mal detta o mal interpretata. E questo è sicuramente successo a tutti voi, ma è anche successo a me. Dunque le parole si prestano all'ambiguità. e possono creare confusione. L'amorevole gentilezza invece non genera equivoci e viene immediatamente percepita come un segno di rassicurante presenza, soprattutto da parte di chi ha bisogno, specialmente da chi è smarrito, vulnerabile, solo, ha bisogno di un consiglio, di un'attenzione. Ma io col tempo ho anche verificato che l'amorevole gentilezza non basta semplicemente a manifestarle dicendo ma sono dalla tua parte. Si appoggia sulla comprensione delle condizioni dell'altro. Molto spesso chi ci fa del male ha problemi che lo fanno soffrire. E non ce l'ha veramente con noi, ma deve trovare il modo di sfogarsi. E noi facciamo da capro espiatorio. Quindi in questo caso, quando noi abbiamo capito che l'altro sta soffrendo, allora non basta perdonare perché è stato scortese, ma dobbiamo cercare di aiutare. E questo aiuto che noi diamo è un importante regalo. Perché quando prestiamo attenzione a qualcuno, anche solo per pochissimi minuti, gli stiamo offrendo qualcosa di noi, un pezzo della nostra vita. Ed è un pezzo prezioso. Perché la vita è preziosa. E noi qualche volta, presi dalle nostre illusioni, la sprechiamo anche un po'. Allora molti di voi mi diranno ma sarà anche prezioso, ma vivere è faticoso. È certo. È vero. Ma che cosa c'è che non sia impegnativo nell'esistenza? Pensiamo alla fatica che fanno le api, che volano continuamente, passano da un fiore all'altro, alla ricerca di una piccola goccia di nettere. Sono instangabili. E noi invece, alla prima delusione, ci fermiamo, ci deprimiamo e non cerchiamo altre direzioni. Eppure, nella vita, ci sono infinite possibilità di rinnovarci. Ma noi non sempre siamo disponibili al cambiamento. Ognuno avrà i suoi problemi. E io, con questo discorso, non intendo certo proporvi qualcosa che ora, per motivi vari, non avete la possibilità o l'intenzione di fare. Ma vi garantisco che con poco sforzo potete da subito attuare un cambiamento nella vostra vita praticando l'amorevole gentilezza. E a questo proposito vi rivelo un piccolo segreto. Produrre questa energia rigeneratrice non è difficile. Basta agire con sentimento. Il sentimento è per noi quello che il calore è per la natura. Aiuta a maturare. E i gesti d'amore illuminano la nostra mente e quella del prossimo. E lasciano sempre un segno. E sono certo che se non vi stancherete di essere gentili con lui anche il vostro peggior nemico cambierà il suo atteggiamento aggressivo nei vostri confronti. E credetemi, chi si sforza di essere gentile alla fine diventa spontaneamente buono. perché a forza di farlo si agisce spontaneamente anche nell'amorevole gentilezza. E il campo d'azione per praticare la gentilezza è infinito. Infatti, i tempi attuali e le ricerche della scienza, le neuroscienze ad esempio, ci portano a riconoscere che il mondo è una grande realtà globale fatta di uomini, animali, piante, fiori, montagne, cieli, tutti interconnessi, tutti strettamente interconnessi. E tutti da porre al centro della nostra attenzione. E tutti bisognosi delle nostre amorevoli cure. Qualsiasi cosa ha bisogno di un po' di energia. Quindi, se dovessi definirla, direi che l'amorevole gentilezza è sicuramente una qualità dello spirito improntata all'ideale del bene. E dunque facciamolo diventare il nostro migliore compagno di viaggio. Perché il bene è un'energia cosmica onnipervasiva che nutre ognuno di noi. Infatti, quando amiamo, ci sentiamo uniti senza bisogno di parole ed emaniamo una luce che tutti possono riconoscere. Pensate quando siamo innamorati che tutti ci vedono raggianti. E quella è la luce. è la chiara luce radiante di una mente serena che è in sintonia con le vibrazioni degli altri e del mondo. In Nepal, quando i nepalesi si incontrano dicono namaste. Namaste vuol dire rendo maggio alla luce che è in te. E io vorrei precisare meglio la luce che è in me riconosce la luce che è in te. E se noi impariamo a rivolgere ogni giorno questo semplice ma profondo saluto a tutte le cose che ci circondano possiamo sicuramente arrivare a quella pace interiore che coincide con la fusione della nostra mente nell'armonia del tutto. Namaste. Ah, ricordatevi che i grandi cambiamenti iniziano dalle piccole cose e progredire con discernimento è un sentiero graduale che richiede decisione e ponderazione. Festina lente appunto il titolo del nostro incontro. A questo proposito voglio farvi un augurio. Se mai domani o dopodomani o in qualunque altro momento della vostra vita decideste di essere pronti a provare a fare gentili possa ogni atto di questa amorevole gentilezza generare infinita occasione di gioia per voi e per chi vi è caro e possa la vostra gioia dare fiori e fare frutti e possano questi frutti andare a beneficio di tutti gli esseri. Auguri e fatemi sapere. Grazie.